Sì, sono arrivato da un paese molto lontano che si chiama Kazakist, che ha conquistato l'indipendenza vent'anni fa, ma non l'ha conquistata, si è trovato in una situazione che Mosca è crollata, non c'era più e si è trovata indipendente. Ora, noi non possiamo aspettare che Roma non ci sia più, dobbiamo conquistare la nostra indipendenza adesso. E vorrei essere bravissimo, oggi abbiamo cominciato dal ponte di Calatrava questa marcia, abbiamo incontrato tantissimi turisti che chiedevano cosa vogliamo e vorrei soffermarvi solo su tre. Uno è una coppia olandese che mi ha chiesto, ma ci credete veramente? E ci crediamo come ci hanno creduto loro, perché nel 1581 si sono liberati di un tiranno tanto oppressivo quanto è questo, forse meno, che era l'impero, era il sacro romano impero. Hanno lanciato la dichiarazione di indipendenza e sono diventati 30 anni dopo la Repubblica delle Provincie Unite che in una forma diversa ancora orante di adesso. Ho incontrato poi degli americani del Tennessee e per loro la storia è la stessa. Nel 1776 13 colonie affamate, disperate, vessate dalla madrepatria inglese hanno sottoscritto un documento fondamentale per la storia dell'umanità, una dichiarazione di indipendenza che ha dato origine agli Stati Uniti d'America e hanno combattuto e hanno lottato. E l'ultimo era un gruppo di studenti in margine scozzesi e ha detto, sapete cosa stiamo facendo? E loro hanno detto sì, perché noi facciamo lo stesso. La Scozia ha rinunciato alle sue prerogative, le ultime prerogative del 1707 di indipendenza il Parlamento è stato riaperto da pochi anni e nel 2014 ci sarà un referendum che porterà la Scozia a essere uno Stato indipendente e sarà la fine di quello che si chiama Regno Unito. Quindi viva l'indipendenza, viva il veto indipendente! Grazie! Grazie!